C'è scarsa attitudine a rispettare le leggi e soprattutto a rispettare le sentenze. Non è il giudizio universale, la Corte Costituzionale ha espresso un'opinione su una legge, ci si deve attenere a questa e naturalmente il governo che ha preso i voti degli elettori deve continuare a fare il suo lavoro, a occuparsi dei problemi degli italiani che vengono prima di quelli di Berlusconi. Questa sentenza apre scenari nuovi secondo lei? Non è il giudizio universale, l'ho detto e lo ripeto oggi, la sentenza poteva essere questa o quella opposta, bisogna rispettarla, punto e basta. Il governo è stato legittimato dagli elettori, vada avanti, governi e parli dei problemi degli italiani che vengono prima di quelli di Berlusconi.